Siamo fermati in un agriturismo nel Lazio e ad accoglierci abbiamo trovato un sacco di maialini, un bel po' chiaccheroni. Adesso vi faccio vedere la stanza. No vabbè, guardate che carini, c'è la mamma scrofa che allatta i suoi piccolini. La nostra stanza è la numero due. Guardate che carina che è. Adesso vi portiamo in bagno e guardate che doccia, vi piace questa stanza?